Hola ragazzotti, io sono Leone, sono qui per farvi un breve ragionamento e più che altro per avvertirvi che la live, che ci dovrebbe essere domenica, ma essendo Pasqua non credo di avere una giornata libera, è anticipata a verdi. Quindi vi aspetto tutti, venerdì alle 4 fino alle 8, penso se non ci saranno problemi, a giocare con Isaac una prima ora e poi facciamo delle 3 orette circa di Terraria, o per dirvi per chi è interessato, per i pochi interessati a essere di Terraria, ho un pochettino farmato off camera perché giustamente, come vi avete detto, anche qualcuno di voi l'aveva detto, io ho detto di no, anche perché non ero sicuro, perché semplicemente oltre che vi diverte più parlo in live, però mi era venuta voglia proprio di giocare a Terraria, visto che c'ero, l'ho fatto, ho farmato un pochettino e ho ottenuto un paio di cosette, niente di che, non mi siete persi nulla, non ho fatto combattimenti strani, ho fatto soltanto quelle cose che magari fatte in live avrebbero allungato la serie di altre 2 live e basta. Quindi, un'ora di Isaac, 3 ore di Terraria circa, vi ricordo che la settimana scorsa siamo anche su Twitch, che trovate in descrizione qua sotto del Twitch, vi consiglio di seguirmi anche lì perché dai feed sicuri di quando vado in live, perché ho mandato la mail, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Nel caso, ho detto tutto, ho detto anche troppo, ciao a tutti e a domani!